Nella splendida location del lago di Bracciano, a pochi chilometri da Roma, si trova l'allevamento di cavalli puro sangue arabi Free Arabians di Vittorio Gentili. L'allevamento di linea polacca nasce nel 2003 dalla grande passione del suo allevatore per questa straordinaria razza. Gli ambi paddock che dispone l'allevamento rendono i cavalli liberi di pascolare gran parte della giornata come nello spirito di Vittorio, che è quello di allevare in libertà il cavallo, come nella cultura polacca. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Una particolarità allevatoriale del Free Arabians è quella di acquistare tutte le fattrici alle famose aste selezionate in agosto a Janon-Polasky, selezionando le linee di sangue più importanti, come per esempio due fattrici figli di rette di Ecaoliptus, due figlie di Extern e due figlie di Ararat. L'allevamento dispone ad oggi di 23 cavalli, 12 fattrici, 9 puledri, 2 stalloni disponibili per la stagione di Monta. Grazie a tutti! Stallone di punta di questo straordinario allevamento è sicuramente Munder al-Shakab, figlio di Yaladid al-Shakab, due volte campione del mondo. La madre Kajora è anche la madre del grande campione del mondo, Ghazal al-Shakab. L'allevamento si rivolge a tutti i giorni, a tutti i giorni, a tutti i giorni. coloro che amano la morfologia con cavalli da show di gran movimento e tipicità, ma non solo, perché i cavalli del Free Arabians sono selezionati anche per endurance e per chi vuole divertirsi a sella per passeggiate e trekking con cavalli di gran equilibrio. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!